Abbiamo deciso di far abitare tutti gli spazi del PAN nel nuovo programma di quest'anno e la frequenza degli utenti di questi primi mesi di attività dell'amministrazione è sicuramente positiva. Sia nell'ambito delle proiezioni di cinema, sia con le attività di spazio kit, sia con le grandi mostre ai piani espositivi. È ovvio che stiamo cercando risorse per poter sempre in più collaudare all'interno degli spazi spazi anche con lo storio di valore nazionale e portarlo a Nardo. In questo senso che l'amministrazione sta muovendo anche per certi primi partenariati con fondazioni private, con attività esterne che possono quadruare il lavoro dell'amministrazione. Abbiamo parlato un po' canzi nella Commissione, seguendo un po' quello che è l'indirizzo già dettato dall'amministrazione centrale, dall'assessore Vino Cera, io credo che una delle cose più importanti sia quella, oltre a regola di fondi, di valutare e pagliare, per tutte le potenziali di acquisizione, sia dalla regione, dal mercato esterno, sia quella di mettere in ogni caso alla struttura, nel regime cercare, come sembra sia stato già proposto e spero venga validamente sostenuto anche il prossimo bilancio, di poter usufruire i locali, soprattutto quelli a primo piano, per dargli a disposizione di attività esterne che siano vicine alla cultura, quindi per portarli a dare un ritorno economico che poi in qualche modo, attraverso il carisma politico e sul prossimo bilancio, chiaramente possano ritornare qui per essere reinvestiti in cultura e soprattutto nelle dinamiche di messa in sicurezza, soprattutto di tenuta dell'edificio e relativamente ai costi che sono già abbastanza alti, perché un milione di euro è la tenuta annuale di questa struttura. Tra tutti i costi di cesore che gravano sopra sono dei costi enormi che sui quali bisogna cercare comunque di incidere positivamente per renderla quanto più fruibile, in maniera più fruibile possibile. Credo che la struttura che siamo riusciti questa mattina è eccezionale, sono stati diversi anni di euro per poterla regolare almeno le sue funzioni alla sua originale destinazione, scopriamo però dell'esistenza di ambienti che probabilmente dovrebbero meglio essere valorizzati e rientrare nel pieno possesso dell'amministrazione. Mi auguro che tutto questo sia realizzato, per cui con l'assessore è stato profico, credo che tutti insieme possiamo lavorare in un progetto che dia dignità, lancio, sviluppo, possibilità di mettere Napoli in una cornice capace di attrarre eventi culturali, non solo per in qualche modo recuperare l'antico prestigio che c'è per un cari cristiani. Un anno, oggi abbiamo fatto qui una commissione generante per verificare lo stato dei gruppi, che ci avevo detto prima, e insieme all'assessore di Rosciera poi trovare la formula giusta per rilanciare questa struttura. Ci vogliono più gente, ci vogliono... Dobbiamo verificare il rilancio che dovremmo fare la commissione, credo, a fine mese, e per verificare anche lo stato patrimoniale di queste strutture, perché i costi sono molto elevati. E mentre la regime bisogna cambiare un po' le regole. Sì. Quindi riguardo ai tempi, insomma? In questo momento non ne posso dire niente, perché appunto questa è la prima volta che ci riuniamo con il PAN, faremo una commissione a Via Verdi e dove appunto porteremo dei progetti e dovremo ancora discutere. E solamente siamo ancora in fase embrionale a questo momento. Grazie a tutti.